Ottima performance per la BCC Bucino Comuni Cilentani nel corso del contest 2018 lanciato dalla società del gruppo Crediper. La BCC Bucino Comuni Cilentani si posiziona prima al sud e quinta a livello nazionale, un dato che testimonia la vicinanza della BCC Bucino Comuni Cilentani alle esigenze di credito della propria comunità, che sostiene i progetti personali e che dimostra la capacità di fare banca bene, offrendo risposte concrete alla propria clientela e ai propri soci. Crediper Premium è il prestito personale comodo, semplice e veloce, pensato dal credito cooperativo con tassi promozionali super vantaggiosi. Si possono richiedere fino a 30.000 euro in 84 mesi. Con prestito flessibile si può anche saltare il pagamento di una rata per massimo cinque volte, posticipandola alla fine del finanziamento e modificandone l'importo, aumentandolo o diminuendolo. In totale libertà, calcola la rata che vorresti pagare rispetto all'importo che hai bisogno per realizzare il tuo progetto direttamente sul sito www.bucinocomunicilentani.it e per maggiori informazioni rivolgiti in filiale. In più, fino al 22 marzo 2019, ottenendo Crediper Premium presso la filiale BCC, parteciperai automaticamente all'estrazione in palio di un'auto Toyota CHR Hybrid Launch.